In questa lezione parleremo dello shatsu fatto tra bambini, quindi abbiamo visto prima il lavoro dello shatsu sulla bambola, ora la sequenza che abbiamo fatto sulla bambola verrà riportata sui bambini. Inizialmente io farò sdraiare un bambino e farò vedere ai bambini come noi andiamo a lavorare la sequenza su una persona fisica e non più su una bambola. Quindi la partenza sarà in sesa, come abbiamo visto prima gli appoggi saranno il sacro e le scapole, qui mi appoggio, lascio andare il mio peso, mi sposto e mi sistemo nella posizione del gatto. A questo punto io comincio a fare la sequenza che abbiamo visto prima, quindi muoverò una mano alla volta, cercando di mantenere la posizione del gatto felice, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi il gatto con la coda che guarda verso l'alto, molto lentamente, proseguo fino alle mani. come potete vedere le mie mani sono avvolgenti, questa pressione avvolgente fa in modo che sia piacevole per chi la riceve, il mio peso con la coda che guarda verso l'alto.